Sono in compagnia di Mario Ferrorelli, presidente della circoscrizione San Nicola Miura. Bentrovato presidente. Bentrovato a te, bentrovati a tutti. Allora, quali sono stati i cambiamenti che hanno coinvolto la tua circoscrizione in quest'ultimo anno di tua attività come presidente? Beh, essendo stato riconfermato, per fortuna per i cittadini non ci sono grandi cambiamenti, ma c'è un filo conduttore che unisce le due precedenti mie legislature garantendo servizi forniti negli stessi tempi, con la stessa velocità e, mi auguro, con la stessa efficacia. Devo dire che questo aiuta moltissimo gli uffici perché il cambio di frequenti di presidenti o di consigli determina sconquasso e disorganizzazione negli uffici stessi. Nel mio caso, appunto, come dicevo, questo non avviene perché ho una squadra collaudata che lavora da tanti anni con me e che riusciamo a garantire uniformità di lavoro, tempi brevi, con soddisfazione, immagino, da parte dei cittadini. E il tuo bilancio di questo anno? Com'è? Positivo? Negativo? Beh, è un bilancio a chiaroscuri, diciamo. Ecco, intanto c'è tantissimo entusiasmo da parte del nuovo Consiglio eletto, quindi tantissimi consiglieri molto motivati che stanno dando vita a iniziative di grandissimo rilievo. Alcuni provengono direttamente dall'associazionismo e dal contatto diretto col territorio. Faccio l'esempio di Stefano Milano, che è il presidente del comitato Cesare Battisti per il parcheggio interrato, che ora consigliere circoscrizionale continua la sua battaglia per la realizzazione di questo benedetto, per non dire maledetto, parcheggio che pare... Che ha tanti problemi, ha creato tanti problemi. Certo, e che pare stia vedendo finalmente la luce in fondo al tunnel, seppur con qualche intromissione da parte di enti esterni che ogni tanto dicono la loro, senza rendersi conto di rischiare di aggravare ancora di più i tempi della realizzazione. Per cui, voglio dire, è una squadra molto efficace, ci sono molte donne, ragazzi motivati. Insomma, devo dire che questa è sicuramente la novità positiva. Molti giovani. E che cosa hanno portato questi giovani? Beh, hanno portato prima di tutto, ripeto, entusiasmo e voglia di lavorare. Che chi ovviamente fa questo lavoro da molto tempo tende a perdere. E io per primo, devo dire, che non perdo mai la mia passione ovviamente per la politica, però avere questa spinta da parte dei giovani e soprattutto delle donne, che devo dire che nella politica sono estremamente efficaci e coerenti, e come posso dire, concrete. Concrete. Pragmatiche. Pragmatiche, certo. Stiamo vedendo immediatamente dei risultati. E devo dire che aiutano, qua divano la mia azione, che per forza di cose non può essere isolata, non posso lavorare da solo. Questi sono i chiari. I discuri sono determinati da una sensazione, ma credo che non sia solo mia, di un certo allontanamento da parte della guida della città di Bari, dai problemi concreti della città di Bari. In una parola, per non girare intorno, credo che il sindaco si debba occupare un po' di più del suo ruolo, perché ultimamente lo percepiamo poco. Voi come Presidente di Circoscrizione parli per te o parli proprio per un discorso allargato? No, io faccio prima di tutto un discorso allargato, perché vivo la gente, vivo la strada, quindi sento un po' gli umori delle persone. Come esenti appunto i cittadini in Bari? E li sento un po' sconsolati, perché essere rieletti sindaci per la seconda volta, io ho l'esperienza vissuta sulla mia pelle, sul mio primo mandato con Di Cagna Brescia, e fu la seconda di Di Cagna Brescia quella della realizzazione delle tante cose messe in cantiere, della tanta carne messa a cuocere. Devo dire che vedo occuparsi questa aggiunta un po' più delle faccende politiche altre, che vanno oltre il ragionamento cittadino, che più dei problemi concreti della città. Quindi nella tua circoscrizione i cittadini come li senti? Beh, intanto i cittadini della mia circoscrizione, come tu sai, sono molto particolari, perché c'è la popolazione del Murattiano che è sicuramente di un certo tipo, perché rappresenta la media borghesia barese, perché è espressione del commercio barese, ci sono gli uffici, i servizi, le banche, e poi c'è Barivecchia che è il cuore, la storia di Barivecchia, della città di Barivecchia. Hai idee realtà molto importanti e che pesano ovviamente. Molto importanti e molto diverse. In certi casi contrapposte. Per fortuna da qualche anno non più così contrapposte, ma attraverso le opere pubbliche, attraverso la realizzazione delle grandi piazze, Piazza Ferrarese, Piazza Mercantile, Corso Vittorio Emanuele, si è chiusa un po' quella cerniera che divideva la città vecchia dal centro murattiano e oggi c'è questa osmosi, questa contaminazione positiva che porta soltanto benefici, devo dire. Però i cittadini chiedono, chiedono che si viva più tranquillo, che le politiche per il traffico iniziate debbano essere portate a compimento. Però noi incrociamo le dita e speriamo che magari... Sì, anche io le incrocio, però non basta. Non basta incrociare le dita. Va bene, ne parlerai in separata sede, poi direttamente col sindaco, giustamente ti darà le spiegazioni. Ma si avvicina l'estate, parliamo di qualcosa di bello, dai adesso lasciamo i chiaroscuri e parliamo di qualcosa di molto luminoso e solare. Che cosa hai in programma per i cittadini della tua circoscrizione? Beh, abbiamo... E non solo, perché ovviamente ricordiamo... E infatti era proprio l'introduzione... Mi hai tolto le parole in bocca, perché è l'introduzione che volevo fare al mio ragionamento. E' proprio quello, no? Anzi, vuol dire che sei perspicazzo. Il fatto è proprio questo, è che nel centro murattiano e soprattutto a Bari Vecchia gravita un po' tutta la città di Bari e non solo, anche la provincia. Lo vediamo in questi giorni con la Sagra di San Nicola, ma voglio dire in generale così, soprattutto all'estate. E credo che l'attenzione dell'amministrazione comunale debba essere, nei confronti della mia circoscrizione, quella che è onorone di presiedere, di dare e di stare accanto al Presidente, al proprio Consiglio, nella programmazione degli eventi che devono riguardare l'interestate. Devo dire che da anni invece questa viene vissuta quasi come una contrapposizione, quasi come una competizione tra assessorato sport, cultura o quant'altro, che si mettono quasi certe volte in antitesi alle iniziative che la circoscrizione, con i pochi fondi che è a disposizione, mette in campo. Ecco, a me piacerebbe dopo tanti anni, dopo oramai quasi sei anni di lavoro con questa amministrazione di raggiunta Emiliano, di vedere invece una collaborazione maggiore, di vedere una collaborazione maggiore per far fruire ai cittadini servizi maggiori e un calendario più intenso, più organizzato e più ricco. Per quanto ci riguarda, noi partiamo subito adesso con il 5 giugno, con la Notte Bianca, che in realtà abbiamo un po' sdoganato dalle cliché della Notte Bianca, infatti si chiamerà Bari Vecchia tutto in una notte. Ah, bellissimo. E non è solo il cambiare il nome, ma è anche proprio il cambiare la filosofia di questa iniziativa. Perché veramente avviene tutto in una notte, cioè tutti, i negozianti, i musei, le chiese, eventi che la provincia, la circoscrizione, spero il comune, attraverso l'assessore Paparesta che si è detto sicuramente disponibile, metteremo in campo per fare di quella notte, di quella serata, di quella notte, un'occasione, ma soprattutto un'occasione per rilanciare il commercio barese, perché credo che sia la chiave, questo tipo di eventi siano la chiave, per dare un'iniezione di fiducia e di speranza al commercio barese, che come si può immaginare in tutta Italia è in piena crisi. Io ringrazio Mario Ferrorelli per essere stato con noi, in bocca al lupo quindi per tutte le novità che coinvolgeranno la tua circoscrizione. Ce ne saranno tante, perché io ho parlato solo del primo evento, ma vi invito tutti quanti a seguire, un po' anche sui giornali, attraverso la vostra emittente, tutte le iniziative che avremo in programma quest'estate, sono tante e renderanno sicuramente ricco l'estate barese. Allora ti inviteremo di nuovo in prossimità dell'estate, così ce le svenerai, ok? Sarà un piacere stare con voi. Grazie. Ciao.